Lavoriamo per evitare qualsiasi chiusura. Agli italiani sono stati richiesti enormi sacrifici. Una dose, due dosi, tre dosi, Green Pass, Super Green Pass, tampone, rapido, meno rapido, per evitare chiusure. Quindi ci sono milioni e milioni di italiani, anzi decine di milioni di italiani, che sono corsi a farsi vaccinare. Adesso parlare di chiusura mi sembra prematuro. E infatti oltre al vaccino su Green Pass, adesso ci sarà anche il tampone per accedere ai nuovi venti. Cosa ne pensa? Lascio che i medici facciano i medici. Io da italiano rispetto le norme che vengono date. Però anche la comunità scientifica dovrebbe mettersi d'accordo se il tampone serve o non serve. Fino a settimana scorsa il tampone non serviva. Adesso qualcuno chiede il tampone anche per i vaccinati. A me basta che, ad esempio, questo CTS parli con una voce sola. Perché da papà vorrei sapere cosa devo fare. Ecco, sul tema scuola invece noi stiamo lavorando perché nessun bimbo venga escluso, venga discriminato, venga abbandonato, dimenticato o lasciato a casa. Perché la scelta per quello che riguarda i bimbi spetta alle mamme e ai papà. E quindi è giusto, come il governo ha scelto, che ci siano mamme e papà liberi di scegliere.